Ed eccoci qua ragazzi, come al mio solito io sto pedalando e voi? In questi ultimi giorni molti di voi mi hanno chiesto che cosa fare, soprattutto lavori specifici indoor. Bene, da oggi per tutti i tesserati fitri c'è la possibilità di registrarsi sulla piattaforma MyEtraining di Elite dove potrete trovare tutte le indicazioni che avete bisogno per l'allenamento indoor. Siccome la storia si sta facendo lunga credo sia una grande opportunità, quindi esplorate e divertitevi, in bocca al lupo, ciao!